Vino attento? Uh, mi hai fatto paura, non dovevo sentito entrare. Come è questo vino? Buono? Lo devo assaggiare? Uh, oddio, guarda che cosa hai fatto, ti potevo dare un bicchiere. Non passa nada, tanto tenia che lavarla. Che belle poppe, ce l'avessi avuta anch'io così. Come ho detto? Poppe? 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 E tu come la stienes? Le poppe. Pobaccia, vieni al telefono, c'è da fare... Un maschista. Sì, ora vo. Vai, vai. Sì, vo, vo. Vai, ti sta aspettando, vai. Salve. Signorina, una pregunta. Possibile io e lei una ramatina? Niente? Salve. Che fo, chiudo? Chiudo. Puoi vederci? Oui. Pas. Mi piace. Voi. Ho. Ho. Ho.